E ragazzi io sono Ferinichi E io sono Stefano e sto giocando a Pizzanator Si il nome è orribile No è simpatico Pizzanator come terminator delle pizze Cioè sei il terminator delle pizze Che le ammazzi, che te le mangi O che ne fai tantissime Perché? Perché sei un vero Pizzanator No Pizzanator Comunque un giochino simpatico Con grafica carina dove dobbiamo tipo fare le pizze In un ristorante vengono i clienti E il modo in cui fare le pizze sembra davvero carino Partiamo subito e vediamo un pochettino com'è Non l'ho mai provato neanche una volta a fare te lo dico Quindi non so i comandi Allora come puoi vedere la grafica è davvero carina Quello lì è il cliente che sta aspettando per mangiare Order tutorial Ok Se ti stai chiedendo come prendere un ordine Vai da qualcuno e premi F Ti daranno appunto il loro foglietto con l'ordine Quindi adesso vediamo un pochettino Salve F Ecco Pepperoni Devo prenderla o no? No secondo me no hai visto che è peperoni E quindi Guarda Primo cliente Perché io credo che siano graficamente tutti come lui Capito? Però è bellino Allora pizza e peperoni Ok Steph scusa dovrei prendere l'impasto Per favore Allora show arms Ok vedi Acchiappi Drop Dai Steph ce la puoi fare Prendi la pasta Una Ok E la mettiamo qui Senza baggarla dentro il tavolo Steph Ok Prendiamo C'è il formaggio Il pomodoro Qualcosa del genere Forse io devo usare questo no? No ma quello è il ketchup Steph Quello è il ketchup C'è scritto ketchup E' scritto qua in gigante Ops Ehm Allora forse lo devo mettere qua Mettila lì Allora Vieni qua Ok C'hai fatta Ok Bravissimo Steph Bravissimo E adesso? Non lo so Spero che si cucini Speriamo di sì Ok Allora abbiamo messo la pizza a fare Perché lui dice Quattro Cris pizza Allora Prendi Grabbi Droppiglia Ma si sta coccando però Cotta Però secondo me ho sbagliato Posso provare? A fare cosa? Allora Io devo fare con i peperoni Giusto? Sì Il ketchup prima di tutto Secondo me si usa Perché l'ha fatto un americano al gioco Usano il ketchup al posto del sugo Ma no Te lo giuro Ma serio? Eh sì Non mi prende Non andare a uccidere il cliente Come fai a capire cosa penso? Cosa sta succedendo qui? No raga Mi serve un personale Lefere Io non ce l'hai Steph Questo è solo tu Olive nere Olive nere Olive nere Dove essere come uno di moda E peperoni Ok I became ninja Mentre Ci sono diventato ninja Mentre imparavo a fare le pizze No ti prego No Non è finita una Ti prego È così che si fa Non avevamo capito nulla Vedi? Ketchup 5 o più peperoni 3 o più di cheese Che è quello che ti sto dicendo io da 4 ore Ma noi non abbiamo i peperoni Perché devo andare qua E comprare 5 peperoni Sì compra E non abbiamo i soldi Ovviamente non i soldi E ma scusate Come faccio a fare la prima pizza Se io non ho soldi Che poi questi tecnicamente Sono dei peperoni Questi verdi Verdi Io non ho capito Perché di solito in America Quelli i peperoni Con due P Intendono la salsiccia Quindi No Quella è la sausage No La salsiccia E poi la salsiccia più grossa Steph Ma non te lo ricordi Su Pizza Place Su Roblox No Era la stessa cosa I peperoni Non erano peperoni Era una salsiccia così grossa Allora Però io non riesco Ad acchiappare gli ingredienti Vedi È quello Perché è fatto malino Sinceramente No Non è fatto malino È terribile Oh Oh Ma porca Allora Se c'è una pizza Ti acchiappa sempre la pizza Opla Un peperone Erano 5 Sì È un pezzo di salsiccia 3 peperoni Eh sì Quella è per errore 3 peperoni Raga Almeno una pizza La devo fare in sto gioco Eh Giuro Dove Perché voli 2 3 Ok Sta andando bene Ho due surrima Attaccate Steph Se la salvi Secondo me Riesci ancora a mettere La terza fetta A cosa stiamo giocando A cosa stai giocando Non mettermi in mezzo Non ci provare Steph No non ci provare Steph recupera Ti prego Ok L'ho girata Appoggia Gira per sempre Appoggia Ti prego Teco non da A chiappare peperoni Di ingredienti Andiamo Butta la In forno Stai Butta la In forno Smetterà di girare Facciamo la seconda pizza Va Allora Mettici subito il ketchup Ok Leggiamo come si fa Ok Ok Premi il bottone con le tue mani Esagera Esagera Sì Bravo Steph Bravo Ok Ok Adesso devi Facciamo un'altra Ma vogliono tutti quella Ce n'è una semplice Questa Ma non la vogliono al bacon Steph Nessuno ti ha chiesto la pizza Ci sono talmente tanti clienti Che aspettano la pizza Ecco Bacon Vai Quanto era? Non mi ricordo più Eh Pere Concentrati Allora Ketchup 4 e 3 4 di batteri Allora 1 2 Io sto ovviamente pregando in questo momento E 3 Ok Quanto è questo di bacon? Sarà 1 Una stecchettina 1 Bel gioco Bel gioco Dai 2 3 Io voglio completare una pizza Eh no ci credo Anche io ormai Ok Allora domanda a farti Carbonizzato Mettila qui al centro Lasciala fluttuare qua Ti prego Dalla quello che vuole I peperoni Ti prego Dai Questa è la tragica Una onentità Che abbia vita proprio Che poi il formaggio neanche si è sciolto Capito? Quella è carbonizzata Per il formaggio intatto Va bene E poi ha i pezzi di peperoni Che gli fluttono attorno Sembrano gli anelli Di un pianeta Calmi Ti prego Usiamo l'altra mano Siamo più bravi Che l'altra mano Con la destra No dai Vabbè va bene Ma non ha tre fette però Steph Mettigliela al volo Ok Ok ci siamo L'altro pezzo di ketchup Ci si sposta Qua ci sono varie cose Che hanno una propria vita Capito? Ma secondo te è già pronta? Sì Levala La levo? Sì Non rischiamola Ok portiamola a quello che volevo Meglio cruda Con extra Ho ripreso il ketchup Extra sugo Che poi qui è ketchup Quindi immagino quanto sia buono Oh Gli è piaciuto anche l'extra ketchup Prendi i soldi Quindi devo portare i soldi Penso nella cassa Sì Sì È dell'ordine che ce ne facciamo? Boh rimane lì No non buggatevi L'unica Che è l'unica cosa bella Di questo I nostri pochi guadagni Ok 150 E costose queste pizze 150 dollari Una pizza Vabbè Steph È tutto grazie all'extra ketchup È quello che si fa pagare E con gli effetti speciali Si fa con quella pizza Ce l'abbiamo fatto Abbiamo Allora Facciamo un piccolo recap Abbiamo guadagnato 200 dollari Abbiamo creato un'entità Che non comparirà mai Da questo gioco Che potrebbe tipo Prendere le anime Di tutti i nostri clienti E rizzucchiarli In un'altra dimensione E rizzucchiarli Esatto Già non sono molto bene Figurati di cosa potrebbe accadere Abbiamo imparato a fare La pizza Giocchini Decisamente più carini Di questo Ma non è che ci voglia molto Se mi mette A colpire la tastiera Faccio di meglio C'è dell'arte In quello C'è dell'arte Lasciate comunque un like Se vi è piaciuta Questa fantastica arte Iscrivetevi al canale Clicate la campanina Se ancora non avete fatto E ci fermiamo così Ciao ciao